Buongiorno a tutti, ho deciso di salutarvi, anche se sapete non sono molto brava con tutti gli strumenti tecnologici, ma mi pareva bello salutarvi di persona. Intanto grazie per quanti mi hanno cercata, chiamata, si sono preoccupati di come stavo, ma credo che questa cosa sia stata importante perché ci siamo sentiti tutti parte di un insieme, di una comunità di persone che nelle difficoltà ci sono davvero. La cosa che mi ha colpita molto è in questo lungo tempo di silenzio l'avere potuto contattare tantissime associate e associati che hanno sempre tenuto presente molti aspetti che insieme abbiamo affrontato, il mettere puntelli, il volersi più bene, il riconoscersi un valore, il riconoscersi persone intera. Ecco, sono a dirvi che oggi vi voglio rilanciare il Camarines Day, convinte che avete sicuramente messo a posto la casa, messo in ordine, ma quello che conta è mettere ordine dentro i nostri cassetti. Questo è quello che vi auguro, perché per il futuro quei cassetti saranno la nostra sicurezza e la nostra salvezza. Sapremo di mettere a posto cose lasciate in sospeso e sicuramente sapremo pensare al domani con il piacere e con speranza. Saluti a tutti, buona domenica.